Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese film a caso il film di oggi è l'anno del dragone cominciamo Film di Michael Cimino con Mickey Rourke, Ariane Koizumi, John Lone del 1985 A Chinatown è arrivato un poliziotto che cercherà a tutti i costi di mettere fuori gioco la Yakuza Non scendendo a compromessi con la dilagante corruzione Ma non sarà così semplice Stanley White, il protagonista, è burbero, violento, egoista, razzista, scorretto nei confronti delle persone che lo circondano a partire dalla moglie Il pubblico inizialmente ne prende distanze ma poi, vedendo il sistema contro cui combatte, si immerge nel suo microcosmo composto da indagini esasperate Tutti coloro che lo circondano sembrano accettare per paura o per comodità il sistema malavitoso in cui sono incastrati Sembrano rassegnarsi a tutto ciò e cercano di convincere il personaggio principale a lasciare perdere Proprio come cita l'ultima frase del capolavoro di Roman Polanski, Chinatown Con cui questo l'anno del dragone condivide l'ambientazione, il quartiere cinese, seppur in due città diverse Il pubblico quindi patteggia con il personaggio principale dopo un iniziale scostamento a causa del suo carattere scontroso E il film si addentra talmente tanto nella sua psiche che lo spettatore insieme a lui finisce per dimenticarsi della incolumità degli altri E' come se il protagonista vivesse in bilico tra due universi, uno comprendente gli affetti personali e l'altro comprendente la criminalità organizzata contro cui si batte Quando l'uno interferisce con l'altro, creando danni interpersonali e scomponendone tutti gli equilibri Il dramma sale alle stelle e il poliziotto cade in un turbinio di sensi di colpa Anche lo spettatore lo segue rimanendo frastornato e ansiato poiché nota che questo è un comportamento ciclico che tende a ripetersi per via dell'effettivo egoismo che alleggia nella personalità dell'antieroe In fondo anche lui responsabile del sangue innocente che verrà versato Si instaura così un meccanismo di suspense con al centro una complessa personalità e regolamenti di conti spietati Le scene d'azione sono poche ma magistrali nel dare l'impressione di una lotta contro il tempo Prendiamo ad esempio il pestaggio nei banni di una discoteca che degenera in un inseguimento con tanto di spari, morti e feriti Il tutto è raccontato in pochi minuti ma il montaggio frenetico dà l'impressione al pubblico di non avere nulla sotto controllo Tra fugaci inquadrature su ferite da cui zampilla sangue e corpi che si accasciano dopo essere stati colpiti La tensione palpabile e il ritmo incalzante poiché pochi istanti possono determinare tragedie enormi E bagni di sangue da cui difficilmente si uscirà integri Non vi è tempo neanche per chiedere scusa per i propri sbagli o per chiarirsi con i propri parenti Perché la violenza incombe imprevedibilmente spesso alle spalle rendendoci impossibile Arrivata a questo punto il pubblico per quanto possa condividere i nobili intenti del protagonista Mette in dubbio l'efficacia delle sue reazioni e soprattutto finisce per dubitare di se stesso Che forse non avrebbe il coraggio di reagire a un sistema malavitoso insito nella cultura del luogo e difficile da debellare Il finale anche se non totalmente privo di speranza conferma quanto appena detto Un noir senza esclusione di colpi, disilluso dalla gran potenza visiva e a tratti toccante Un cult